Al salone di Los Angeles la Casa degli Anelli ha presentato la sua nuova concept a celle a combustibile. Due motori elettrici, trazione integrale e un'autonomia di 500 km. In poche parole, si tratta di una forte dimostrazione tecnologica basata sulla tecnologia ibrida plug-in e un gruppo full cella idrogeno. La nuova set Sportback H-Tron 4 adotta un indedito parwell train elettrico da 170 kW e 540 Nm di coppia, composto da una cella combustibile, una batteria tradizionale con sistema plug-in e un motore elettrico per ciascuno degli assi. La trazione integrale 4 non ha quindi bisogno di nessun collegamento meccanico tra gli assi e le emissioni sono totalmente azzerate. Questo concept è dotato di una gestione completamente elettronica della ripartizione della coppia. Nella modalità di funzionamento con celle a combustibile, la A7 Sportback H-Tron 4 ha bisogno di appena un kg di idrogeno per 100 km, la cui energia erogata è pari a quella di 3,7 litri di benzina. La capacità del serbatoio permette un'autonomia di oltre 500 km, mentre il processo di rifornimento dura all'incirca 3 minuti. Per quanto riguarda le prestazioni, accelera da 0 a 100 km orari in 7,9 secondi ed è accreditata di una velocità massima di 180 km orari. La strumentazione di bordo è completata dal Power Meter che sostituisce il contagiri tradizionale e fornisce indicazioni sul flusso di potenza, mentre il tasto EV sulla plancia permette di utilizzare la sola carica della batteria a litio. Nella modalità S del cambio automatico viene inoltre aumentato il recupero di energia e i freni a disco intervengono solo in caso di brusche frenate d'emergenza. L'Audi è pronta a proporre questa tecnologia sul mercato non appena le infrastrutture saranno disponibili e ci sarà una reale richiesta per questa tipologia di veicoli.